Grazie a tutti. 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 Vedete, questi due passaggi sono fondamentali nella persona del nostro Gesù. Nel mio testamento, come scrisse Don Giuseppe Dossetti, penso che preciserò non lascio nulla perché non ho nulla. Dico questo perché vengo da una famiglia povera che mi ha insegnato a non avere né timore né vergogna della dovestà. Me lo insegnarono con dignità la mamma, il papà Giacomo e entrambi i contadini. Gente abituata al duro lavoro dei campi che ha fatto tanti sacrifici per tirarmi su con dignità e senza farmi mancare nulla. E io non l'ho mai dimenticato, erano tutti per me. Come vedete, questi nuovi passaggi ci dà proprio la ficuta del... Una bella lezione, maestro. E però, nella sua modestia, nella sua serietà, nella sua omestà intellettuale, da queste parole emerge un valore particolare, emerge un lascio spirituale inestimabile. Don Giuseppe Dossetti, no? Don Giuseppe Dossetti, nel momento in cui riceverà la cattolina di precetto da San Pietro, che gli dirà vieni a godere un po' in eternità, ebbene in quell'untato momento lascerà un patrimonio inestimabile che è il ricordo del suo insegnamento, del suo magistero, della sua bontà, della sua umanità, spesa a 360 gradi. E questo è un'unica cosa. Don Giuseppe Dossetti è stato chiamato così, in maniera incidentale, però te lo penso che l'abbia molto da dire. Sì, infatti più che altro è la scelta. Io penso che, se volessimo utilizzare un'immagine sul quadrillo caro, immagino come quella della minietà. Cioè, più si va a scavare nella personalità, negli iscritti, nella spiritualità, e più si trovano ricchezze, infatti, in locale. Faccio solo un esempio. Io sto tentando, sto cercando di mettere a posto il suo fondo, gli iscritti, quindi mettendo a posto un po' il suo archivio, perché è davvero bello vasto. E quando pensavo di aver finito, a mezzù la prima parte, nel periodo sess'anno, quindi il libro già era pronto per la stampa, ed era di mille pagine, tutto ciò che lui aveva scritto nel periodo di sette anni, otto anni, a sess'a lunga, poi andando a mettere a posto l'archivio suo personale, sono usciti fuori altri scritti non pubblicati inediti. E quindi sono tutto bloccato. Che faccia? Questi negiti che non sono stati pubblicati, tra cui anche diverse poesie, li metto all'interno del volume, oppure no? E allora questo è il suo fondo, che davvero, diciamo, questo è meglio dell'uomo, soprattutto di grande cultura, che è il padre Locato. Adesso vuol dire, come l'incontro con il padre Locato non nasce indifferente, rimane via sempre avvicchito, soprattutto in un punto di vista morale, spirituale e culturale. Uno delle ultime volte che l'ho incontrato ci ha fatto proprio una lezione di teologia contemporanea, come fosse aggiornato su tutte quelle che sono le nuove tendenze della teologia di oggi e come fosse critico, naturalmente, di queste nuove tendenze che non mettono tutto il Vangelo di Cristo al centro della riflessione teologica. Un grande patrimonio. Però ecco, io vi faccio una procurazione. La chiesa di Caserta, la città di Caserta, sarà in grado, ecco, di assimilarlo, di farmi tesoro, ecco, di questo grande patrimonio, questa testimonianza che ancora rende evangelica davvero ogni giorno o, diciamo, così come succede spesso nella storia in genere, anche nella storia in questa città, ecco, poi tutto al grande patrimonio. Come non compagno del Duparo, la chiesa di Caserta non ha avuto molti poeti o scritti. Per quanto mi risulta in storia patria sto realizzando un settore della biblioteca che di 24 mila volume la storia di Caserta non deve scarsa. Bene, c'è un settore di costruzione che è per il momento dominato da Raffaele e da Raffaele. Naturalmente quello che ho messo insieme prendendo un po' una biblioteca, un po' raccattolandolo in giro e notiamo. E dico, chi volesse accettare a interesse a mettere a conoscere queste opere di consiglio donare si erano disponibili perché non è più che ammigia la storia. Quindi quello che è possibile è possibile. Certo che non ha avuto un'incertura ma ha avuto i predecessori dedicati tra noi nel suo corso di studi ha fatto un corso di studi specifici laureato in lettra a Paglia aveva in lettra e c'è un precedente con un signor un signor Mancini che è stato il vescovo della mia gioventù che mi ha cresemato e un signor Mancini ha lasciato veramente un tesoro di autore letterarie e mi dico così come ancora prima nell'inizio della mecenza il consiglio Mario Paladino che è stato un finissimo uscito che è anche di data ma adesso siamo fuori dal seminato e sentiamo l'istituzione laica sentiamo l'assessore Enzo Paglia che in questo momento rappresenta l'amministrazione per l'elega del sindaco ma anche soprattutto a titolo personale il quale l'assessore della cultura e tutta un'altra serie di cani che ci sono lasciati per sottrarre troppo tempo grazie Alberto io porto comunque il saluto dell'amministrazione comunale del sindaco Carlo Paladino per questa iniziativa molto meritevole che abbiamo inteso ospitare qui in questa sede nuova tra virgolette nel senso che è nuovamente utilizzata per dare iniziative culturali era uno spazio non aperto alla città che invece mi sono impegnato a recuperare e che è uno spazio anche in tempo confortevole dove i conti di questo genere possono provare attualmente la locazione quindi alla richiesta del maestro Barchetta abbiamo risposto subito di sì perché ci interessava molto il tema era diciamo un lavoro importante quello che si è fatto a livello editoriale e ci sembra la sede giusta per poterlo presentare quindi grazie a tutti colori che vengono qui ad ascoltarci l'istituzione che deve dire l'istituzione casertana è l'amministratore che ha dato la cittadinanza rorale a Raffaele Locano questo va detto in una pietra mediale Alberto tu sei una persona molto rispettosa delle istituzioni e credi molto dei documenti che le istituzioni producono quindi nel momento in cui la città di Caserta si è espressa dando la cittadinanza rorale a Raffaele Locano gli ha dato un massimo riconoscimento che l'istituzione comune poteva dare a un cittadino questo però è un dato freddo il dato caldo invece è che Raffaele Locano non avrebbe la preoccupazione cosa è male a tutti noi che abbiamo conosciuto abbiamo operato con Raffaele Locano resta tantissimo resta tantissimo c'è tantissimo perché lui veramente è stato una figura carismatica quindi noi abbiamo avuto la fortuna di interrompire privatamente a come dire rimane soggiocato dal suo magnetismo dalla sua capacità di ascoltare e soprattutto poi di dire la sua bontà la sua capacità di russi comunque a livello dell'interlocutore commettendolo mai a disagio sono delle qualità straordinarie eccezionali vanno al di là dell'umano a certi aspetti quindi molti fortunatamente hanno avuto modo di vivere delle esperienze con lui e sicuramente questo insegnamento lo porteranno con loro poi ecco la istituzione può ricordare di ricordare il terreno che riecheggiavano nella cartellata di Caserti al 31 decente amministratore di una parte politica amministratore di un'altra parte politica tutti ci siamo beccati ci siamo i suoi tuoni e i suoi fulgine insomma che erano ovviamente a fin di bene erano per scuotere le istituzioni cittadine a rendere al meglio a venire incontro alle esigenze reali che la città aveva penso alle cave penso all'università cioè non è che poneva problemi di secondo d'ordine o minore poneva problemi centrali che a volte la politica imperante ripeto di qualunque verso essa fosse la politica imperante dimenticata nella propria agenda i temi fondamentali della città e lui il 31 dicembre ce le ricordava e come ce le ricordava per cui il livello istituzionale ha sempre assorbito le sue legittime impettive lo ha anche ringraziato e gli ha voluto ancora più bene perché ogni volta che ha detto qualcosa era qualcosa di giusto ovviamente non tutto nelle speranze di padre L'Ogaro si arriva a realizzare brevemente è anche vero che il mondo si sta realizzando estremamente lentamente però fortunatamente in alcuni aspetti hanno trovato una una via di approvo non voglio essere ottimista non lo so però sempre le proie di approvo e quindi diciamo che le sue parole sono pazze sicuramente un ultimo aspetto non voglio essere eccessivo nelle parole però devo dire la cosa che mi ha più stupito di L'Ogaro quasi un aneddoto però mi l'ho riportato quando un'altra vita scrivevo per il mattino L'Ogaro incontrò Lucio Amedio il gallerista famoso che ha dato alla città in particolare all'Arencia la custodia delle opere di Terevolo sulla collezione di arte contemporanea straordinaria ebbene Lucio Amedio quando vide che la politica non era in grado capire l'importanza di questo affidamento parlò con Raffaele L'Ogaro e Raffaele L'Ogaro tuttora si sente investito di un ruolo di un custode quantomeno morale di questa straordinaria collezione di arte contemporanea ecco questo è una cosa che mi meravigliò sia per quello che era stato il comportamento di Lucio Amedio sia per quello che era stata la disponibilità questa era ovvia di Padre L'Ogaro e rimane quindi fermo anche con quest'altro aspetto che se nella città di Casetta c'è ancora la collezione del remorso la legge di Casetta lo dobbiamo anche a Padre la Spade L'Ogaro che quando ha dovuto alzare la voce anche in quel caso l'ha alzata io fui testimone che racconsi il suo appello e lo pubblicato il mattino e le sue parole sicuramente tantissime diciamo in tutti i casi hanno un peso le parole di Padre L'Ogaro hanno sempre un peso elevato grazie le parole di Padre L'Ogaro con le sue posizioni che si trovano si trovano si trovano sono sempre direggiate sono sempre insegnate dalle carte dalle carte di Geselle e passate ad un'altra carte della canonica adesso voglio chiedere un po' del pubblico e non non mi chiedono quanti altri che vedo qui si cerca di nascostarsi non di non la bufavate se ecco ho fatto questo collegamento con l'attuale momento che tu non hai po' di impegno di signor D'Ogaro a tenere ancora abbracciata gran parte della accumulazione presentata e tu che cosa ci vuoi aggiungere un credo che possa aggiungere molto a come vi farlo detto se no il fatto è più che non ti senti non ti senti vieni qua non mi diceva il mio nome è lo che compro la scuola l'arga specialmente il disco o l'occasione fosse perché sarebbe stato bello però dentro mondo la sua situazione di salute adesso non è proprio al massimo e diciamo che non sarebbe comunque venuto queste cose celebrative della sua persona anzi ma si come direi schifo che dire riguardo questa seconda fase di un caro caserta che è legata appunto alla sua sistemazione della canonica della chiesa del predentore penso che di fatto come è lui che ha questo carisma evangelico così evidente e quindi affascinante forse fa molto di più di una barrocchia potrebo dire perché non solo per il seguito che ha ma anche appunto per la testimonianza che dà per il seguito perché io ho visto stando anche io un po' su facebook per dire sui social che veramente ha tanto seguito anche in generazioni che non lo hanno conosciuto direttamente o noi come sacerdoti seminaristi oppure abitanti di caserta ma ha tantissimo seguito presso le giovani e generazioni per esempio gli studenti dell'istituto di scienze religiosi tutti lo ammirano lo vengono a trovare vogliono conoscerlo avere un colloquio con lui e secondo me adesso il pesco è ancora più nella sua missione autentica perché qualche volta ha confidato a me con il don Pasquale forse per il suo don Nicola che ha contatti molto frequenti con il pesco che in qualche modo il ruolo di pesco lo limitava perché c'è sempre un ruolo istituzionale e quindi lui doveva anche stare nei confini di questo ruolo invece adesso è molto libero perché può dire quello che pensa lo ha sempre fatto però sicuramente io vedo uno spirito più sereno che gli permette di esprimere con maggiore serenità e libertà il suo messaggio all'algerio che poi man mano che passano gli anni il menso don Nicola può essere testimone insieme con me chiaramente i nostri colloqui sono anche molto più spirituali magari di semplici colloqui sulla storia eccetera è un messaggio sempre più semplice sempre più chiaro sempre più diretto e cioè quello di voler bene all'uomo di voler bene alle persone con tutti i limiti e le contraddizioni che l'uomo ha sia dal punto di vista proprio del pensiero moderno sia anche proprio nella soggettività di sospettiva quindi quando tu vai là veramente ricevi questo grande abbraccio di accoglienza e ti arriva che è una persona che ti vuole veramente bene una persona che ti vuole bene e sa spingere gli altri a voler bene anche se la pensano diversamente se la versano diversamente da te grazie però non esageriamo troppo a dire tutto bene perché è a sé le cotumace e non si fa e non si fa e facciamo un po' qualcuno che mi riferisce dice ma tu che siete permessi di accedere non c'è problema non stiamo accedendo ma stiamo semplicemente dicendo ciò che è bene ciò che ci consta ecco sarebbe ancora più interessante e continuare con questo intreccio con con la platea con gli astanti e la non ecco allora va bene io vorrei parlare di un rapporto speciale perfetto nome con noi mi faccio chiamare Daffa però vogliamo si va vorrei parlare è rilevante il rapporto meraviglioso che ho con padre lo caro perché comprende anche i problemi personali quello che ho notato in quest'uomo che io non vedo come vescovo cioè il mio rapporto è un rapporto mare è la capacità mi collega a quello che ha detto prima di valorizzare l'individuo cioè lui tende a valorizzare tutti le persone riesce a trovare il positivo di tutte le persone e queste madote perché poi trova anche non inventano non è un adoratore ma cerca di far esaltare il positivo delle persone quello che voglio dire invece a Don Nicola Lombardi non so se avrà un seguito tutto il lasciato spirituale specialmente che sta lasciando da quando è venuto a casetta ma con sicurezza so dire per testimonianza diretta che quando sono andata Gredisca di Sedeviano ci sono andata proprio per vedere dove era nata quest'uomo che per me rappresenta l'unico punto di riferimento da quando sono nata coerente ne ho conosciuti tanti ma tutti hanno perso invece la denunare o no per la sua umiltà la sua venenza tutti i lati positivi che io non riesco il lato negativo che gli trovo è la contà eccessiva però la contà o c'è o non c'è quindi non è neppure un lato negativo andai a Gredisca e fui coinvolta da questo pesimo piccolissimo entrai in un bar fuori da un bar e l'ha scritto lasciamo i miei sogni e quindi pensai a rinnovare in un pesimo e pure a casetta ci sono rinnovate con queste scritte così romantiche così belle chiese a cui giovani donne se conoscevano Valenogano pur prevedendo che essendo una teoria dall'82 da suoi figuri che non avessero loro mi dissero subito si misero a disposizione che c'erano tre persone dell'età più o meno di padre in un'età che avrebbero parlato con me mi dovete credere non finivano più di parlare di padre in un'età che sono molto riservati sono molto schifo e sono un po' diffidenti inizialmente non finivano più di parlare di padre in un'età le ho fotografate le ho portate la foto a pretendo le ha riconosciute subito e quello che mi ha colpito di tutto quello che mi hanno detto e che mi hanno detto anche il motivo per cui era stato rinviato in una ricerca di casetta quasi come una punizione perché sovvinezza il vescovo di allora sono fatti che lui racconta perciò le dico quello che mi colpì è che sottolineiamo il rapporto che padre Nogaro aveva avuto con i genitori nel senso che mi disse uno dei tre che si piano si crescenso mi disse la mamma tutti i giorni dai del disco di Sideriano poi la piscitetta sotto la pioggia sotto i temporani sotto i tempesti andava al seminario per portargli da mangiare perché a lui non piacerebbe mangiare e gli facevano e quando ho raccontato questo quanto mi è scomvolto perché la famiglia campana la famiglia meridionale e io me l'immaginavo così ma il Friano veramente ha una tutta diversa lo so perché la mia migliore vita del Friano di Venezia e Giulia me li conosco benissimo mi ha insegnato la madre Pasolini in domizia tutti gli scrittori io mi parla della madre a 13 anni tramite questa amica che ha vissuto poco tempo a caserta e praticamente e quando io lo raccontai lui che ha adorato la madre in prima linea mi ha detto si fanno ma anche papà faceva così non solo mamma cioè non l'ha negato e ha confermato questo fatto che mangiava malissimo e poi lui era contentissimo quando il cimitero mi portava per cui dopo tanto che mi portava il 82 al 2016 io sono stata lì a settembre del 2016 dopo un mese che era morta la sorella del Corina infatti mi dissero al cimitero perché poi il cimitero che rischio è bellissimo è un bellissimo cimitero la passione cioè non ho mai visto un cimitero così in Svezia ma in Italia non ho mai visto un cimitero così bene le persone che incontravo che mi sembravano sui cimitero io le avvicinavo e dicevo vengo alla casetta dove c'è il vescovo il vento fiano tutti e perché non tornano qua e perché non lo so per cui dopo tanto tempo avevo ancora nostalgia e lui mi hanno raccontato episodi proprio intimi della sua vita infatti infatti ci sta qualche foto all'interno del libro dove appunto Logara torna a Gradisca magari Francesco se puoi mettere quelle foto qualche foto di quell'incontro che lui ha avuto con i suoi vecchi cittadini a Gradisca io prima di di leggere qualche altro del se lei legge il libro come leggeranno no no ma io tutto non lo vedo eccolo qua questa questa è questa questa qua è la foto dei suoi dei suoi coetane al liceo e poi c'è quell'altra il gruppo quando lui è andato da vescovo da vescovo a Gradisca io volevo precisare anche qualcuno qualcuno mi ha chiesto ha fatto la domanda esplicita ma quando costa questo libro il libro non costa niente tanto è vero che volutamente non abbiamo messo il prezzo non abbiamo messo il libro è stato stampato grazie al contributo di tante persone anche qui presenti dal contributo lo stesso Michele Schioppa dell'associazione Parchetta quindi voglio dire il libro non è in vendita non ha un costo ci sono i libri così come come diceva un grande santo chi può donare chi non può prenda ma assolutamente il prezzo non ci sta poi alla fine li vede chi può donare chi non può prenda noi abbiamo tutto ciò che riusciremo a recuperare e già con Michele magari poi interviene anche un po' Michele tutto ciò che riusciremo a recuperare sarà speso per una ristampa soprattutto della parte fotografica perché vi ripeto abbiamo più di 500 fotografiche ancora non li abbiamo potuti mettere tutti e questo io devo ringraziare non faccio no perché sarebbero tante persone che si sono prodigate per far avere questo materiale anche da Gradesca quindi questo ci tenevo a dire Michele non so se vuoi aggiungere qualcosa schifo che si è scritto bene sostanzialmente come diceva appunto Antonio oramai per la pubblicazione che vedete lì il grosso oramai l'abbiamo assolto c'è qualche pubblicazione che cerchiamo di recuperare anche con i contributi di pubblico in ogni caso tutto ciò che verrà recuperato sarà funzionato e sarà finalizzato alla ristanda nel resto chi riconosce sa che anche le finanze di distribuzione vanno sempre in omaggio le pubblicazioni la stessa cosa fa l'associazione della barchetta tutte le sue pubblicazioni si cercano a monte di finanziatore o comunque di distribuzione con l'associazione stessa che si accorre i costi e vengono distribuite questo è un modo che dovrebbe contraddistinguere anche la volontà della promozione di un'identità di una rottura o comunque di una persona come in questo caso di padre Raffera volevo sottolineare proprio rispetto a questo spesso come per quanto da qualche anno che era a distanza come voi o quasi in talità di voi presenti sapete bene continuo con l'autorità nel cercare di ricordare studiare valorizzare pubblicare la storia di molti sacerdoti casertati e ogni qualvolta sempre divulgare telefonicamente praticamente o comunque quando ci vediamo di persona o comunque quando riceve l'autorità che è o gli articoli che grazie alla testata le conti sempre riusciamo a divulgare la passata di un procedimento lui deve essere entusiasta di questa cosa sia un altro per te io in esperienza io vivendo a nord che mi sto rendendo un punto che è diversa dalla percezione che è vissuta nel giusto di casetta della valorizzazione dei sacerdoti rispetto a quello che hanno fatto a maggior ragione di quelli che insomma alla fine della carriera hanno concluso la carriera e lui insiste tanto sul volere ricordare si può rimuovere e anche sull'esistenza continuo grazie alla non non il supporto ma la supportazione del maestro barchetta che per me a caso spesso andare in giro per attivare testi in biblioteche politiche per procurarvi dati o dal ritorno alle attività per avere le foto si riesce a portare avanti questa cosa poi dopo laddove dovreste essere un minuto averlo estrapolato da alcune delle pubblicazioni dei passaggi che volevo rendere passaggi interno per me diversamente va benissimo comunque in rischio di scolato grazie prego uscita prego signore e volevo prendere a seguire Don Pasquale Lunano perché e perché sto facendo sto portando questa tecnica diciamo perché sappiamo che un volume l'opera avrà uno sviluppo e probabilmente qualcosa sarà sfuggito e allora benvengono i nuovi contributi quindi la signora adesso poi Don Pasquale però dobbiamo darci anche un tempo ci sta non di cosa che si è prenotato prioritariamente e quindi se ci sono altri non ci rimodiamo con i tempi quindi uno due tre e è quattro credo io non sono io autorizzata per le grazie a questi due giovani a Michele e a Barchetta però sento il dovere di dire grazie a loro perché hanno un po' il coraggio di usare di portare a termine un progetto molti in occasione dei 90 anni di Lugano volevano fare qualcosa una celebrazione del libro non si è parlato però un giorno anche dal Vescovo Dagnese in parte insomma in segreto se vogliamo fare una celebrazione con una ricorrenza non sono riusciti a superare lo stato da comunicare voi siete riusciti nonostante tutto a portare avanti quest'opera meravigosa e veramente ognuno di noi ha un rapporto come diceva si è pari personale comunicare umano di grande valore e nessuno di noi è stato riuscito a dare un segno tangibile in questo in questo anniversario era doveroso non era doveroso diciamo abbiamo una realtà tutti quanti e voi avete fatto una grande cosa soprattutto per le notizie storiche per la storia e per tutti i riferimenti delle recitazioni che avete fatto un lavoro enorme in Stato Spano quindi grazie Michele ma nel primo momento Lugano li aveva fermati io ero presente lui se non voleva e ancora adesso è commosso ed è diciamo garanto di questa cosa e io dal profondo del cuore vi dico grazie perché veramente la vita è fatta degli audaci di coraggiosi e voi siete stati coraggiosi a portare avanti alzaiolo grazie prima non ti avevo riconosciuto a distanza guarda 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 mi metto un po' domandato ti metto che te lo chiede perché io guarda il santo no perché abbiamo una militanza lontana del popolatorio sulle siano il casetto studente degli anni sessanta non è denunciamo l'età non è capiamo c'era in quel periodo sessanta luce sessanta tre sessanta quattro esisteva una tradizione locale di realizzare ogni anno almeno un paio di numeri di un giornalino che raccoglieva suggerimenti problematiche ragionamenti degli studenti inter istituti quindi non c'era una preclusione esistevano delle redazioni di classe redazioni di istituto e poi c'era una redazione centrale a casa e noi eravamo gli operatori di valore teresio che è il nostro coordinatore a un fletto vingiovani un direttore responsabile e tu non starei a noi e le dà e le dà il patrimonio di idee anche di valori padriano canale ci ha lasciato a continuare insomma il cuore e la mente sono soccati dalla sua presenza anche quotidiana io perlomeno soffro di questa questione con molta chiarezza che parlare bene di Lucano non c'è veramente non c'è una parola per andare più oltre parlare bene di questa città che abbia ripreso non è una parte dei valori di Lucano e questo è un po' più complicato pensate che quando Lucano era il vescovo di questa città una grande situazione è stata attaccata da uno dei peggiori politici che esistette che mai esistete in questa città il grande Santo Anastasia un uomo di fuoco veramente non parlo di niente dal punto di vista etico morale anche poi in questo di dire che praticamente ci sono l'occasione di una venuta del Papa per rivolgere un attacco durissimo per figli elettorali che era questo questo personaggio addirittura facendo rappresentare noi eravamo un diavolo pensavo che lo disse solo di regno no troppo uscì sulla prima faccia c'è un'altra di fare questo l'esco è un diavolo ed era presente in Papa a Caserta c'è un'altra di fare un'altra di fare e oltre a fare un'altra c'è stella dove dire qui e non faccio una scossa l'altra non voglio dare con tutti questo per me sono persone che combattono niente così come poter fare di altri che è con musica ci scusate di stupido però Nogano non è mai contro le persone combattuto sempre le sbagliate o i comportamenti o le azioni la famiglia Santonastazio sembra risentita nei confronti di Nogano è stato presente all'esempio di Santonastazio vorrei dire che davvero lui è sempre ma lo è ogni persona e ringa infatti ringa sì sono ringa gli altri però detto questo non ho visto una fase quando mi guardo per me è una fase nella quale erano parte dei messaggi anzi che è un qualcosa e i teori che si dicevano prima per noi eravamo una minoranza proprio ridotta i primi tempi quattro musibili per me l'euro era l'unico momento di un intero attimo nel quale sentivi di stare dentro una comunità sentivi una persona che era vicina e che ti aiutava a fare lotte e che iniziativa e restare a fare in questa città che ha magari notte fatte non ha cambiato ragazze peggiorate va peggiorato ancora di più allora ora il problema che viene molto beh perlomeno la mia base già volita più importante è stata della rotura prodotto non più soltanto non dai partiti si dà partiti ma sono parte di settori affaristi tra parte da pescitarmi di me di e praticamente c'era questa capacità di riuscire a costruire culturalmente le città di essere eseritane ci fu una reazione anche popolare popolare che andava ben oltre le rappresentanze istituzionali immaginando la nostra e la comunità militare ci fu una iniziativa importantissima che portò una serie devo dire molti cattolici protestisti che casetta ha c'è ancora ma sono sempre in pranzo in quel clima di battaglia che ci fu se vi ricordate l'arresto durante la prossima con tutta mezza giunta anzi una tutta tre del prossimo comunale ha detto questo tutto avendo di me praticamente quando c'è stata questa è bello come c'è stata anche è stata questa accorta con con moltanza di momenti uno questa avvoltura della cività seltanica con un vesco un vesco una esclusione enorme e insegnava a noi seltanici anche seltanici alla nascita praticamente a noi seltanici quali erano i problemi quali erano le aspettative e i sogni che erano realizzati se ci pensate per esempio i cuori di fratelli vicine di rivelo del cuore anzi un simbio eventuale anzi con la reggione di Gambano ha fatto sapere come si dice la coltivazione e continua lo sfruttamento e l'abbattimento di queste guarnine praticamente sono le guarnine che sono un'acqua paura naturale la domanda naturale è questo bocco che gli avanti hanno sfruttato eh allora che cosa voglio dire questi questi valori sul fuoco riuscivano a fare il mondo che c'erano giochi io ho fatto un'amministrazione che erano tutti ragazzi erano credo dire almeno una ventina che consiglio non è più giochi giovanissimi di varie attività varie iniziative di impegni reali persone in gamma dopo il piano personale abbiamo lavorato per questo abbiamo lavorato per l'Italia che mi dà questa nostra città che è stata davvero abbattuta in questo senso però la cosa che è quindi rimane da dire questo io sono convinto che nel suo sfratto della nostra città questi valori non potranno essere cancellati anche ciao ma non città di noi perché probabilmente le pubblicazioni soprattutto quelle documentarie dovrebbero esagerare molto di più rappresentanze nostre in questi momenti di tutto che alcuni di poter tornarsi a parte di questa di farlo parte ancora di questa operazione che cambiano la situazione e tranquillamente ma non portano disegni apparistici che attacco alla bellezza della nostra quindi questa è la questione che credo quindi mi piace il fatto che questa documentazione altra di relazioni che fare i lavori che si stanno in Italia insieme ci siano non solo stampati ma si erano presentati nel loro valore e si pensano potesemente non fate un'idea fatemi incertare anche se in grande situazione perché l'unico per ripominciare con l'equazione politica pensano è un'idea di farlo di farlo di farlo di farlo di farlo potere quella politica tracciamentico comunque stiamo deve essere valuta e credo che non ha ci accompagnerà in questa questa storia in un futuro migliore per le nostre razze grazie a tutti grazie a tutti canonico penitenziere della cattedrale l'unico titolo che ho messo ricostruiamo di carnicati non c'è carnicati non c'è carnicati diciamo un dono grande veramente di Dio a questa terra e io ho conosciuto non sono caro quando fu invitato a Caserta per la conclusione del mese mariano era giovane un vescovo molto giovane e da come parlava io già la conoscevo immediatamente però la pagina settimanale che faceva lui assesso dell'avvenire e mi piaceva come lui scriveva così e venne veramente folgorato perché se c'è in me una una cosa che non non è che non mi piace cioè se qualcosa mi attrae non riesco a non incontrarla e io credo che questa sera la grandezza anche questo di questo incontro e proprio perché è un incontro quindi non è carichero dalle persone ma è un incontro vivo che ce la deve dare più uomini più donne perché l'uomo è grande nella relazione io subito quando venne qua andai subito sopra gli dissi padre io bisogno di parlare con voi così no lui mi mi diede mi donò questa occasione di parlare di tante cose anche perché io venivo da un'esperienza della facoltà di Mosin di Pallora che andavamo quasi diciamo così sotto inchiesto perché iniziavamo a parlare di ideologie della liberazione con Valderanza nella Pallora e più mesi ti mandano le febri di scuola no poi dopo piano piano per cui quando vieni in diocesi non è che non mi senti accettato cioè non riusci a respirare perché io credo che con il concilio avevo chiesto dovevo guardare qui là ma diciamo educato a questo non a guardare l'orticello quindi andare al di là poi gli devo dire grazie perché io ho fatto il parco a tutte e due le barrocce di San Nicola per 30 anni sono stata a San Nicola e ogni giorno morivano persone che non incambrano così e dico ma che succede qua no stanno le distaglie avevo questi problemi delle distaglie la utero per esempio ma mi sentivo un pochettino solo la notte andai a fare un giorno degli infermi c'è una muzza ma come fanno questi questi miei patrocciano di quello si noi chiudiamo le finestre la notte le abbiamo verso le 9 le 10 no allora mi è stato molto molto vicino insieme a me adesso stanno temeri e un giorno ventissimo vengono celebrare la mese dove andiamo nella discarica vennero un sacco di messone di chi stava nella discarica mi sembra che la discarica è mastogata nelle cose di questo genere qua quella verso Margaloni no quella lama ed è stato veramente quello momento per per conoscere ancora di più diciamo non tanto questa questa figura ma una parola di Dio di verde ecco perché Dio parla attraverso l'uomo noi chissà se c'è questo quindi per me anche per l'onestità noi dobbiamo molto moltissimo se non tutto a noi perché è molto importante che ci sia stato questo scolimento culturale che adesso dobbiamo cercare di gestire di portare avanti di umanizzare sempre di più perché noi abbiamo delle bellissime occasioni delle bellissime opportunità una cultura casetta è piena di persone che vivono di cultura ma viva e non è che escono in televisione oppure sono ma che io incontro ecco ogni giorno che termine dicendo che cosa mi ha dato Padre Nogaro quando incontri l'uomo incontri Dio questo è tutto per me concludere con la conclusione Don Nicolo non è la questione sì qualcun teore infezion innanzitutto mi prende un po' la paternità del sottotitolo non vantare per Cristo perché è un po' e la cifra per comprendere il Padre Nogaro perché anche lì ricordo tutte le fasi interpretazioni sono stato stato detto perché è un pesco comunista Nogaro ha pregato a casetta 30 anni fa con il Padre Nogaro e quindi come Papa Francesco è stato malinterpretato e così anche Nogaro è stato malinterpretato quando il principio il fondamento di tutti i suoi pensieri di tutti i suoi agire è per Cristo quindi mi sembrava un po' la cifra perché guardate tutto quello che è andata a leggere in questo testo come punto di riferimento come punto di partenza come punto finale della sua spiritualità ecco così come la sua intensa vita spirituale dove tinge Nogaro tutta la forza la luce dalla lettura continua meditata per ora ogni giorno si alza prestissimo per meditare il Vangelo ogni giorno tutto parte da lì mi dici da anche questa grande testimonianza così come mi è piaciuta sempre quella frase di Saviano su Nogaro tutto ciò che Nogaro ha fatto tutto ciò che di buono viene in una città quindi ha avuto sempre Nogaro e accoggiato tutto ciò che di male è stato fatto in questa città ha avuto sempre Nogaro e è così quindi se noi andiamo un po' in umelaria tutte le cose belle e positive ci troviamo sempre con altri c'è l'altra che è uscito da poco con le vendizioni fra me di Venditto ecco la sette degli anni 90 dove ho scritto proprio un articolo su Nogaro degli anni 90 dove invece Venditto ha potuto mettere proprio in titolo a quell'articolo Nogaro protagonista assoluto degli anni 90 e quindi è stato pare che l'avessi messo in titolo perché se l'avessi messo io sarebbe stata una cosa un po' di patto diciamo becco caro Don Nicola sei da vicino quindi sembra quasi che vogliamo parteggiare invece no è che becca anche da un uomo della politica e della cultura ma a riconoscere che sarà il protagonista assoluto degli anni 90 così come chi è ostacolato a mio caro ecco prima abbiamo menzionato il punto di riferimento della democrazia cristiana da allora però vi ricordo anche che con l'articolo sono grandi oppositori anche all'interno della Chiesa più volte è stato richiamato più volte gli è stato proposto dalle vie da casetta anche per sempre prestigio sempre per amore di questo popolo ha scelto di rimanere quindi tutte le volte che diciamo sentite un po' le cose di rampata di qua di là ho sempre scelto personale quindi nessuno divino a costringere di andare di stare e così via è un regno oppositore anticosida non ce ne lo dimentichiamo i morti di Nassiria e Nogara aveva semplicemente detto in quella giornata dell'immigrazione del Noam non su mentalizziamo queste morte per giustificare la guerra e il mattino invece aveva messo portato per non vedere le base e qui si alzò un polverone a livello nazionale e cosida chiedeva che fosse rimosso questo disco oltre poi naturalmente tutte le lettere in univose che sono arrivate forse un capitolo un giorno da aprire è proprio di questo lato di un locale perché lui ha avuto corrispondenza davvero con tante personalità non sono soltanto arte di un culturo nell'amicizia con Carciari ma anche la personalità della criminalità ci sono lettere di Cutoro che ringraziano Nogaro per essersi avvicinato alla fede che guarderà lì nel regime 41 piste c'è un palio a Carinola Nogaro perché Nogaro doveva visitare carcerati siccome andava a visitare ogni lunedì a piedi in tutte le parti dell'ospedale di Casetta questo dice ecco tutta la possibilità di morare ogni confronti ecco di ogni categoria di persone quindi davvero un po' della passivazione grande merito a Michele a Tolino per amici della vita per questo testo che ci aiuta però è un primo contributo un primo contributo che deve stimolare la ricerca e la ricerca purtroppo in un tempo in cui si ricerca poco si legge poco si va molto sulle immagini e quindi anche questo secondo me è un grande beneficio la carta resta però la carta resta e quindi allora dicevo la storia si costruisce sui documenti e il documento è cartaceo o la pittura però le immagini sono delle scelte sì ma anche su questo si stanno lasciati intenzionali di inogare a scrivere c'è un articolo proprio di avvenire che mi è stato menzionato da Don Pasquale se non sbaglio che già lo legge la sisma perché lui pur di raggiungere il maggior numero delle persone era consapevole che non bastava la pratica in chiesa e quindi ha voluto quella pagina ha voluto i mezzi di comunicazione ci ha creduto e ha cercato di diffondere il maggio attraverso i mezzi di comunicazione e oggi ci ritorniamo con tutti gli articoli di un po' caro tra mille e le luci dalla sessa lunga fino a diciamo ad oggi fino all'ultimo giorno in cui è stato messo di casetta che vogliamo ricordare che forse sarà ricordata anche come lo ricordiamo come l'ultimo disco di casetta unificazione con la diocese di Capua è la nomenclatura che non sappiamo come trascendere se appunto lasciamoci l'ultima cosa Francisco metti un poco quella foto di San Michele volevo raccontare 30 secondi proprio questo fatto una foto vi faccio vedere praticamente quando è stata inaugurata la Madonna del Monte su San Michele su San Michele vedete Padre Locano con Don Pietro con Farina allora torna poi Resco e via dicendo e io ne ho parlato anche sia con Don Nicola ma anche con Don Angelo dell'Italia l'ho raccontato a qualcuno prima lì ci fu un miracolo per me è stato un miracolo praticamente la statua della Madonna che è molto in alto noi stavamo come corale diocesana quindi stavamo dietro l'altare e vedevamo Don Nicola questo pompiere che è salito sull'autoscale è andato su ha tentato di togliere il manto che apporgeva la Madonna per scoprirlo non ce l'ha fatto ha preso il coltello tagliando la corda che avevano messo in dove tagliando la corda e gli scappa il coltello non so quanti di voi a me mi vengono ancora i brividi noi stavamo lì il padre Nogano stava lì e dietro loro stavano guardando questa operazione questo coltello si infilza praticamente in un aiuolo a un metro un metro e mezzo da Nogano che stavano tutti lì per questa cosa per me questo è stato un miracolo perché un metro un metro e mezzo non è una cosa da quell'altezza da quell'altezza quindi sono già se loro stavano per dire salutiamoci come ripetiti non dire non tanto come ci siamo volete perché altrimenti non ci assorbe non ci assorbe grazie 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 tantissimo che hanno offerto questa opportunità che non rappresenta un punto di arrivo ma un punto di partenza grazie a tutti grazie 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 grazie